ben ritrovati a una nuova puntata di buckold abbiamo lasciato passare un po di tempo non ho ancora detto il titolo di questa puntata in realtà abbiamo lasciato appunto passare un po di tempo per il discorso delle mailbag delle vostre domande era arrivato il momento di rispondere a un po di roba anche perché alcune domande stavano diventando un po datate visto che era evidente che molte persone stavano chiedendo cose per le proprie gare future e noi stavamo nicchiando però d'altronde lo sapete noi le nostre mailbag sono lente è come è come mandare una lettera una volta quindi prendere il francobolo lo spedisci la lettera ma non va in posta la metti nella cassetta quella rossa e poi deve passare il postino la ritira poi la lettera del cuore rispondi esattamente ci vuole il tempo che ci vuole la gente lo sa e deve stare tranquillo è stato bello perché oltre al di là delle mail insomma dei messaggi che sono arrivati in mailbag diretta ce ne erano alcuni che erano arrivate nelle nostre chat private che abbiamo detto guarda sai cosa tranquillo le mettiamo insieme e ti rispondo nella prossima puntata di buckold e lì dici beh dai nessuno sa quando sarà la prossima puntata di buckold per le mailbag però siamo arrivati è un po come è un po come pagare con la carta di credito non è un tuo problema attuale è un problema per il tè futuro che sarà solo che con le mailbag magari si espande un pochettino questo limite però ci sembrava uno il momento giusto perché comunque avevamo effettivamente accumulato e non so sinceramente in che direzione può andare questa puntata non solo volevamo evitare le riot in piazza per il fatto che questo mese non ci sarà una puntata di di the long run e marcello in questo momento è negli stati uniti e quindi abbiamo detto rispondiamo a delle domande teniamo buona la gente che comunque la domenica deve andare a correre e comunque possiamo dire che marcello è andato negli stati uniti a fare quello che l'anno scorso a quest'ora dicevamo avremmo voluto fare cioè andare negli stati uniti a fare il tour il grande slam delle gare chiaramente andare tutti e tre non era possibile però grazie ai patron almeno ci va marcello abbiamo abbiamo pescato con i bastoncini si è andato fuori il nome il nome di marcello diciamo abbiamo andato a quello che ha corso di più di recente assolutamente assolutamente quello che ha più chilometraggio nelle gambe compito importante per lui non solo dovrà andare a fare il tour di tutte le gare tutte le 50 chilometri più belle degli stati uniti credo nel giro di due settimane deve andare a seguire delle gare perché ovviamente andrà a seguire canyons andrà a seguire tutto quello che succede negli stati uniti e abbiamo chiesto anche di visitare diverse aziende di brand per riportarci quelli che sono i feedback sui prodotti in sviluppo in questo momento quindi a 360 gradi l'impegno di marcello negli stati uniti zero vacanza solo lavoro bravo marcello che si è sacrificato tomaso io direi di cominciare domande che sono tante anche se penso alcune domande non so se scusarmi in anticipo no forse no non mi scuserai alcune domande sarà semplicemente una frase ci chiedi qualcosa no domanda successiva beh forse alcune avremmo risposto proprio così però la cosa mi fa piacere che mentre leggevo e pensavo beh dai con quel paio di video sui materiali sulle scarpe ad alcune cose sicuramente abbiamo dato qualche minimale abbiamo dato qualche indirizzo anche a chi non ha ascoltato c'è chi non ha aspettato proprio la risposta giustamente ma infatti io consiglierei piuttosto alla gente di mettere in pausa questa puntata in questo momento andatevi a recuperare le sei ore di video che abbiamo registrato parlando di scarpe zaini e scarpe di nuovo e poi tornate qui a finire eventualmente la puntata partiamo alla prima domanda di pietro che dice ciao sorvoliamo sui convenevoli tanto non li leggete invece sono qua a leggerli e guarda pietro mi sono segnato che non c'hai fatto alcun convenevole dovessi trovare una sorella trail dell'infinita saucony triumph 20 da strada cosa consigliate atleta tra virgolette cioè virgolettato l'ha messo lui io riporto appartenente alla categoria dei pesi massi l'ultima stinson potrebbe essere la risposta visto anche la vittoria dell'unbreakable award grazie mille sì esatto chiaramente è una domanda abbastanza circoscritta a un prodotto quindi cerchiamo di stare aderenti e triumph per contestualizzare è un prodotto da strada di della linea massimo ammortizzamento di saucony ed è una scarpa che monta un'intersuola piuttosto morbida ma con una buona resistenza alla compressione quindi ha una media densità questo la rende comoda anche per avere un peso un po' più alto e non cede così tanto a diventare instabile trovare una sostituta da trail significa optare sicuramente per una scarpa che abbia un'eguale stabilità e consenta magari anche un po' di quella sensazione comoda sotto il piede di compressione moderata non eccessiva allora stinson visto che la domanda rota attorno a stinson secondo me è un'idea per una per sostituire anzi per accoppiare una scarpa da trail a triumph se si pensa in termini di stabilità c'è la tua stabilità stinson probabilmente ti porta ovunque ti fa sentire su una buona asse di lavoro e ha una sua bella zeppa alta ammortizzata al giusto e poi insomma ti tiene stabile all'interno del guide ray allo stesso tempo però ti filtra tantissimo perché troppo è così alta e così spessa che magari ti fa perdere molto contatto a terra e va molto abituata con la sensazione lì per cui ho pensato ad altre due scarpe la Saucony Exodus Ultra 3 che è a tutti gli effetti la trasposizione di triumph da strada sul trail deve ancora uscire però è un bel cambio di marcia rispetto alla Exodus Ultra 1 e 2 perché finalmente hanno capito come utilizzare questa schiuma sul trail e l'hanno ampliata alla base d'appoggio diventa adesso un po' più stabile prima era molto instabile come scarpa e quindi porti a casa una scarpa altrettanto stabile un po' più costosa di stinson penso meno una ventina di euro in più con un materiale però un po' più morbido sotto il piede di conseguenza a conti fatti secondo me potrebbe valer la pena provare dico potrebbe perché purtroppo deve ancora uscire e quindi non abbiamo neanche mai messo i piedi né prese in mano in alternativa a Lexus 3 avevo pensato anche ierro v8 perché è una scarpa ad alto ammortizzamento con un grado di compressione della schiuma molto simile alla triumph ma rispetto alla triumph secondo me o magari anche alla stinson perde un po' di quella stabilità centrale perché appunto è un po' più morbida come prodotto quindi tende ad arrivare tende ad arrivare come diciamo noi in gergo a fine corsa un po' prima cioè arrivi a schiacciare tutta la schiuma un po' prima e devi capire se questa sensazione ti piace perché hai più sensazione di cosa è sotto il piede o magari invece preferisci avere una scarpa più solida quindi per fare un riassunto stinson sì se vuoi una scarpa un po' più solida altrimenti se vuoi delle alternative un po' più morbide un po' meno stabili però più morbide stile triumph ecco su exodus ultra 3 di sauconi o ierro v8 di new balance secondo me più brand dovrebbero fare la trasposizione road trail per le scarpe quindi dire corri con noi faccio l'esempio di pegasus anche se è un esempio sbagliato perché secondo me sono due scarpe molto diverse tra pegasus trail e pegasus road però secondo me i brand dovrebbero buttarsi con almeno uno o due paia di quelli basic di quelli adatti al grosso della della massa direi ti piace correre con triumph su strada questa è la triumph trail e secondo me potrebbe essere una direzione interessante perché poi almeno hai un buon punto di partenza nei momenti in cui magari ti butti sul trail sauconi l'ha fatto ma con i modelli di primo prezzo quindi ha fatto la ride che è la loro scarpa daily trainer da strada e ha fatto la ride tr che è esattamente la stessa scarpa con la suola sotto senso stessa cosa stia probabilmente sui prodotti invece con materiali più premium hanno bisogno di dare un senso al materiale valorizzarlo e non possono semplicemente stamparsi sotto una suola e venderla con scritto trail run no 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 io dico prodotto prodotto basic proprio del tipo ho appena cominciato a fare trail non so nemmeno da che parte guardare cosa però mi piace molto quello che uso su strada pensa cosa faceva Oca adesso ha diversificato un po' però Oca comunque ti piace la Clifton? esatto tieni che fa Challenger vuoi correre sul sentiero però però gli cambi il nome nel senso ah ok mantieni il nome fammi capire immediatamente che è esattamente quello che le sensazioni il modo di correre la tipologia della scarpa ma me la porti anche sul mondo trail secondo me avrebbe senso non dico l'intera linea di scarpe però almeno almeno un paio o due qualcosa di questo tipo Andrea schiede presumo non sia writer però non so dove vive ma la domanda io avrei detto di sì magari guarda tutto è possibile vorrei iniziare a fare commuting correndo ho circa 8 chilometri andate a ritorno con 100 metri di più al ritorno sono alla ricerca di uno zainetto sui 20-30 litri che mi dia la possibilità di correre a ritmi blandi 5-30-6 secondo me anche sul tempo ci siamo con writer senza darmi troppo fastidio e da poter utilizzare magari in qualche avventura di fast packing o stage race qua writer mi cade un po' meno quindi idealmente con le flasche frontali per ora sono molto attratto dal fast pack di Ultimate Direction che mi sembra più adatto a ciò che cerco lo avete provato per questa tipologia di utilizzo per caso conoscete altri prodotti sul mercato che possono fare al caso mio grazie domande più corte per favore sono in enormi difficoltà è una domanda molto lunga però risponde anche velocemente allora Ultimate Direction io li ho provati l'ultima volta i zaini da fast packing questa cosa ti piacerà un sacco non so se la sai loro lo chiamano lo zaino da fast packing maschile the fast packer e lo zaino da fast packing femminile the fast packer speciale geni ecco e sono no sono zaini da fast packing fatti molto bene molto solidi però devi essere pronto a usare solo le loro flasque perché hanno dei porta flasque anteriori tarati sui vecchi sui zaini vecchio stile UD e quindi sono un po' più proprio strutturati fanno quello per cui sono creati cioè se cerchi uno zaino leggero non è tanto il caso ma se cerchi uno zaino che appena lo carichi appena appena capacità ti sta bello stabile robusto secondo me fa il suo lavoro e lo consiglierei proprio per quelle opzioni lì idem per il commuting ci lo vedrai bene se io ho tirato fuori un altro paio di opzioni secondo me è molto valide non l'hai provato anche tu quindi ho pensato al Black Diamond e il Distance 22 che è uno zaino che è nato da cross training nel senso che è pensato per chi corre ma fa scrambling fa mezzo alpinismo vuole portare dietro la piccozza i bastoni ha veramente di tutto ed è molto molto strutturato bene con questo nylon ripstop che lo copre per intero quindi bello è un trattamento DVR tiene l'acqua per certo tempo tiene anche l'acqua veramente valido e la trovi sia a 15 litri che a 22 litri forse anche a 28 adesso è uscito anche a 28 litri quindi è veramente uno zainone che ci fai qualsiasi cosa cosa è che non è che magari l'unico lato negativo è che magari sul retro hai un unico compartimento a saccone non hai dei compartimenti intermedi devi farti uno zaino fatto bene però questa è responsabilità tua se fai una gara multi stage e invece un altro prodotto scusa no dico lì secondo me varia un po' il discorso del bisogna un po' ragionare sul discorso del litraggio perché poi mi ricorda che è forse la più grossa incognita 22 sì secondo me hai tutto il 28 inizia a diventare effettivamente importante devi sapere che ti serve proprio per farti una settimana in giro magari rifugio 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 allora potrebbe aver senso e l'altra alternativa uno zaino forse un po' più disponibile come distribuzione più facile da reperire è Salomon ADV Skin Cross da 15 litri quindi litraggio sì più contenuto vestibilità molto più aderente però è uno zaino che potresti virtualmente usare veramente anche se hai le possibilità tutti i giorni di fare non so una base cambio va benissimo c'è un 15 litri in trattamento DVR anche questo qua con il post a flask quello di Salomon che sai che hai un bel brevetto davanti molto stabile sullo sterno è brutto da dire te ne accordi sempre quando è Salomon da farti lo zaino perché è veramente fatto bene è uno zaino forse che si vede poco perché è molto settoriale però conoscendo i brevetti a cui si ispira della linea advance da 12 litri e da 5 è un zaino fatto bene è molto versatile lo potresti usare anche come zaino d'attività pseudo quotidiana infatti lì bisogna veramente valutare in base a cosa uno va di più a usarlo se come dici tu è un commuting ma ho la possibilità magari di avere un cambio dove poi arrivo a lavoro è un conto se mi devo portare tutto il cambio in 15 litri comincia magari a essere un po' più problematico il 22 di Black Diamond lo vedo meglio in questo senso e a me piace un sacco come è stato vedevo anche sull'octane di Camelback che è un 16 litri carica un sacco di roba però se effettivamente devo cambiare un cambio completo comincia a essere problematico sì sì è vero è vero infatti ecco due alternative una sopra i 20 litri e una sotto così non si fa una ragionata Riccardo chiede a quanto ho capito le Tomir 2 si propongono o Tomir 2 si propongono come all around per qualsiasi distanza terreno velocità eccetera avete altre scarpe che consigliate per il modesimo fine grazie a anticipo grazie a compagnia che mi fate sui sentieri sia sui sentieri che nel traffico allora è sempre annosa questione perché la scarpa all around non esiste non esiste ma dall'altra parte esiste solo quella sì ma secondo me anche un po' tutte le scarpe sono abbastanza all around o comunque sbaglio o è più facile secondo me ultimamente trovare una scarpa che sa fare abbastanza tutto decentemente rispetto a qualcosa che sia specifica su un uso non so perché poi vedendo i test da Schialper allora che se ne può parlare a test fatti secondo me delle categorie scarpe sono proprio uscite fuori tanto che ci siamo resi conto che magari adesso mancano delle categorie scarpe sono nomi di lungo perché diventa una risposta infinita però no secondo me c'è ancora il door to trail è la più riconoscibile ma se ci pensi da lì poi escono un sacco di scarpe che fanno un po' di tutto e la scarpa tecnica da che ne so da l'ambiente alpino la usi solo lì perché ti spacchi i piedi se la usi altrove è anche una percentuale più piccola del mercato chiaramente allora Tony Air 2.0 sì un Outlaw Runder è venduta così che poi possa effettivamente fare di tutto è una buona scarpa secondo me è molto polivalente portata su certi ambienti come terreni proprio pietrosi o magari tanto road to trail lì non la porterai mai perché tende ad essere un po' nucca come mi dicono in Trentino su asfalto un po' dura però sì la associo già a una scarpa non settoriale quindi per quanto magari non faccia non faccia per forza bene qualcosa può fare un po' di tutto mettiamola così altre scarpe che ci associo Pin Planet di scarpa un po' per lo stacco medio alto un po' perché nonostante questo stacco medio alto comunque garantisce una bella sensibilità sotto il piede ti permette di fare dal percorso collinare anche una media montagna c'è chi ci ha fatto un UTMB c'è chi l'ha portata ovunque onestamente secondo me è una scarpa che riesce a fare di tutto a patto di farsi piacere la geometria che chiaramente è una scarpa abbastanza alta però se uno si trova bene con Tommy perché ha una geometria più aggressiva su Pin Planet secondo me problemi non ce ne sono ho segnato che adesso è uscita un po' più aggiornata la nuova ATR2 Golden Gate di scarpa lo dice il nome che però scusa? lo dice il nome lo dice il nome Old Terrain Crusher loro lo chiamano dietro se ho scritto sulla sua linguetta però io adesso ho provato un po' ho fatto più di qualche corsa secondo me è una scarpa interessante ma sui terreni un po' troppo difficili forse va in crisi meglio la Spin Planet paradossalmente secondo me nonostante abbia ricevuto critiche da un paio di anni già l'ultimo anno magari che la gente l'ha usata di più che dicono che il grip si faccia fuori in fretta io non ho riscontrato questa cosa però secondo me dura un po' di più se ve la porti su terreni un po' più difficili rispetto alla TR2 quindi io ancora voterei Pin Planet e poi la sportiva prodigio l'inserita perché secondo me come ho il terreno o comunque ho una scarpa che fa un po' di tutto la vedrei meglio ed è più qualitativa di un Atomir come fit come componenti dal mio punto di vista poi adesso qua arriveranno gli ambassador di Normal a dirmi che no ma quella schiuma lì è infinita e la suola la suola dell'Atomir è l'unica roba che salverà dell'Atomir che secondo me è incredibile è veramente fatta bene il resto insomma si fa un po' di tutto ma non è una costruzione eccellente prodigio la vedo meglio più più adattabile a tante situazioni diverse e poi è inserito tra buco 12 di Adix perché è una scarpa che forse da due anni in questa parte continuiamo a parlarne è veramente una scarpa che si adatta a tanti piedi diversi e si adatta a tante situazioni proprio differenti da quella un po' più montagnosa a tranquillamente il collinare scorrevole ci fai di tutto è una scarpa che ha un punto prezzo un po' più basso rispetto al mercato è valida assolutamente valida io penso quest'anno vedremo comunque tante Atomir Atomir ai piedi della gente che fa gare molto lunghe ma posso dire meglio quest'anno dell'anno scorso meglio quest'anno dell'anno scorso vedere Kierag Sherag ai piedi della gente che faceva WTMB su magari persone che erano molto imponenti grosse fisicate mi faceva mi faceva un po' strano sì no poi dico meglio Atomir di quest'anno che aveva una zeppa che era una sola proprio adesso finalmente hanno messo una zeppa interessante infatti la scarpa è nettamente migliorata poi che si è veramente una scarpa per tutto probabilmente è quello magari più o meno il limite di terreno per quella scarpa una WTMB una LUT cose di quel tipo quello che gli americani chiamano non correttamente tecnico perché per loro è estremamente tecnico però sì facile corribile montano prossima domanda Riccardo no Riccardo questa domanda altra riga Simone chiede scarpa per ultra 1,88 80 kg piedi piatti slash larghi da amante delle prime Salomon Ultra e scarpa spin Ultra non amo gli zatteroni mi piace sentire il terreno e io gli ho detto quando ho detto la domanda ma come fa avere i piedi larghi e aver vestito Salomon e scarpa spin ultra poi mi è venuto in mente che scarpa spin ultra effettivamente era comoda per un attimo avevo fatto un crossover con spin RS invece quella era molto appuntita come comunque ho pensato anche qui a tre alternative una in Salomon e due no in maniera che ci sia sempre una Salomon che magari lo riporta ai fasti parto della Salomon ho pensato alla S-Lab Genesis allora poi c'è un'altra domanda sulla Genesis un po' più avanti magari la tocchiamo tocco alcune cose che tornano anche dopo è un ottimo prodotto Genesis non è uno zatterone però è un po' più alto rispetto magari alla media di prodotti che trovi adesso in giro giustamente per la Salomon è una scarpa da lunghe qui si viene chiesta una scarpa per Ultra piede largo va molto bene è una scarpa comoda per essere una Salomon veramente io mi sono stupito del last della scarpa allo stesso tempo è un filo più sul reattivo cioè sa essere una scarpa comoda ma anche un po' reattiva quindi deve piacere quella sensazione di essere accomodati nella scarpa ma di non poterci sedere proprio tanto è un po' più come quella prima Salomon Ultra la prima ecco quella perché sì ecco faccio un parallelismo eviterei di prendere la S-Lab Ultra di adesso la DAEN perché è molto molto rigida ed è molto molto stretta quindi sì hai un enorme feeling del terreno però hai un piede mega strizzato se hai un piede piatto e largo lì ci stai male probabilmente fai anche un sacco di hotspot quindi eviterei se dovessi pescare in Salomon pescherei la Lab Genesis per farle in più la piastra comunque la rende veramente rigida come scarpa quindi secondo me non è comoda da quel punto di vista proprio duretta e altre due alternative di Ford di Salomon beh ho pensato ancora a prodigio perché secondo me per uno che vuole fare le lunghe in quel range di peso lì va bene anche lì è una questione di cui parliamo dopo anche perché poi nella nostra review comunque ci ricordava quel tipo di scarpa una delle prime ultra è una scarpa ammortizzata bene mediamente bene non è una super ammortizzata non ti fa perdere filtro col terreno ti piace sentire il sentiero ce la vedrai bene e ha una forma comoda e la terza scarpa sono andato in casa Kailas con la fuga X3 prodotto un po' probabilmente quello più commercialmente più vicino al nostro mercato ed è veramente una bella scarpetta come ha uno stacco molto simile a prodigio nel senso che sali sopra i 30 mm del tallone ha un drop più alto sono 8 mm quindi davanti ti fa sentire che scendi abbastanza però è molto simile a come era quella prima Salomon Ultra che aveva questo tallone alto e davanti eri più a setto ribassato ha più cuscinetto ma non così tanto cuscinetto da farti perdere sensazione ed è comoda mamma mia e la mia sorpresa di quest'anno è stata il comfort delle Kailas cioè probabilmente sul mio piede largo sia la fuga di U che la fuga X3 sono proprio comode poi in corsa non ci ho trovato la mia meccanica di corsa e quindi l'ho apprezzata magari più da fare dei trailing in cui c'è anche da camminare più che da correre basta però veramente comode per chi ha la pianta larga Kailas veramente consigliata era la DU che ha un ulteriore allargamento della piattaforma la DU ha un ulteriore sì ampio la X3 è una scarpa lunghe più normale sto facendo un virgolettato per chi sta ascoltando e basta però sì e mi ricorda un po' le rullate di Salomon di qualche anno fa però un po' più comoda è una bella ibrida tra la Salomon Ultra come dico fa riferimento la domanda e scarpa Spin Ultra perché si posiziona un po' lì in mezzo le due non è burra come la Spin Ultra ma a quell'altezza lì allo stesso tempo vava verso un po' la rullata della Salomon Ultra che poi chiusura con non possiamo chiamarlo Quick Lace però con un laccio rapido Kailas Lace esatto con una struttura simile a quella di Salomon quindi qualcosa che poi magari uno riconosce anche come familiare domanda che non ha una persona di riferimento ed è un peccato perché questa è un'ottima domanda ragazzi secondo voi il classico parametro dei chilometri percorsi per valutare l'usura delle scarpe ha senso nel trail non avrebbe più senso parlare di ore di utilizzo per esempio tra i 100 km del Chianti e i 120 di Lut ci sono circa 10-12 ore di differenza questa è un'ottima domanda assolutamente d'accordo ma proprio al 300% il problema nasce nel momento in cui probabilmente devi tenere traccia di queste ore o sei molto maniacale e hai il tuo bel diarietto e ti scrivi le cose e fai benissimo riesci però qualsiasi piattaforma da TrainingPix a Strava a Final Surge tutti ti permettono di tenere conto dei chilometri delle scarpe non delle ore sulle scarpe ed è un gran peccato però sì sono d'accordo che nel trail sia più importante le ore che passi in giro nella scarpa allo stesso tempo se vado a fare 10 ore su Iberici in zona collinare e 10 ore in Dolomiti Zordane quindi un po' belle ispide sono proprio diverse come usura quindi anche lì le ore anche lì non sono esatte per profilare la scarpa esatto per profilare l'usura non basta quello ci sono probabilmente ci sarebbero un sacco di variabili da tenere conto l'usura meglio dei chilometri secondo me assolutamente sì però allo stesso tempo anche perché una persona un po' più lenta sta in giro di più per fare gli stessi chilometri ha fatto il doppio dell'usura magari nella scarpa che poi alla fine è un indicatore come tanti altri non deve essere preso come un dato assoluto deve essere preso come qualcosa che magari ti può aiutare un filo in una valutazione di questa scarpa forse ha passato il suo tempo devo lasciarla andare negli ultimi anni comunque e l'abbiamo detto più volte le cose sono anche cambiate dal punto di vista tecnologico talmente tanto che magari anche schiume che o scarpe che comunque non sarebbero eccessivamente usurate magari sono state acquistate da un anno però magari era da sei mesi che erano in un magazzino quindi c'è anche quel tipo di passaggio del tempo quindi sono tanti parametri secondo me da tenere sotto osservazione fa tutto parte probabilmente un po' dell'educazione della persona al trail immagino che esattamente come uno si si allena sì facendo la distanza facendo i propri chilometri facendo le ore sui percorsi si allena a testare l'alimentazione per capire cosa funziona di più e cosa funziona meno uno probabilmente dovrebbe anche un po' avere l'occhio smaliziato su una scarpa che a un certo punto ha fatto il suo tempo ed è tempo di essere cambiata il tipo a me capita di avere delle scarpe a parità di modello mi è capitato di avere una scarpa che non nomino in questo momento stesso modello stesso preso nello stesso anno semplicemente diversa colorazione usate su due terreni diversi con una scarpa a 500 km con l'altra a 250 quella di 250 sembra passata dentro un trittare i fiuti semplicemente è stata usata in una maniera in una maniera differente a un certo punto uno non è che può semplicemente guardare strava e dire no no questa scarpa ha ancora 400 km di vita devo continuare a utilizzarla la scarpa è finita è finita c'è poco da fare no ma io stavo pensando della recensione che abbiamo fatto su prodigio in cui avendo avuto la scarpa in largo anticipo è riuscito a farci veramente tanta strada dopo quei 350 km di utilizzo di corsa cioè la scarpa poteva tranquillamente andare avanti ma per la mia corsa e quel punto di frizione in supinazione che io massacro la scarpa sempre lì lì non era più usabile ma l'ho data in mano a un altro testatore che corre diversamente da me con una rullata piena mi ha detto no no questa scarpa ne ha ancora perché lui rullava da attacco a punta con una transizione più spalmata e quindi per lui la scarpa lì era ancora utilizzabile tranquillamente e allora cosa avrei dovuto fare nel senso io faccio fatica non posso cambiare il mio metodo di corsa per finire le scarpe in altri punti è anche vero che come dici tu bisogna tenere conto di diversi fattori e ogni tanto dire ok questa scarpa ne ha ancora ma non posso pensare di usarla come l'ho usata fino adesso devo darci una seconda vita che magari è corsette o magari è camminare e basta che poi secondo me questa roba del chilometraggio inteso come vita della scarpa è probabilmente anche una sovrastruttura che arriva dal mondo della corsa su strada alla fine tante persone arrivano da lì quindi se sulla corsa su strada probabilmente ha più senso vedere quello che è il chilometraggio perché l'asfalto è asfalto a meno che tu non abbia magari enormi sbalzi in termini di peso magari in sei mesi per cui magari si passa da uno che pesa 100 kg a uno che perde 30 kg nel giro di sei mesi quindi va a usare la scarpa in maniera diversa secondo me lì l'usura la si può veramente giocare sul discorso del chilometraggio sul trail sono tante variabili ma se penso che dieci anni fa ti vendevano una scarpa e ti dicevano 800 km poi cambiala e tu certamente adesso ci sono dei brand con cui anche scarpe di alcuni brand ma anche abbastanza generalizzate la cosa con dei materiali come sono creati adesso purtroppo io li penso sempre ho sempre uno schema di chilometri e per me so che dopo il top chilometri quel tipo di materiale lì proprio non hai le scarpe in sé ma quel materiale lì so che non mi può fare più di quel tipo di usura lì però viene anche con l'esperienza che poi abbiamo visto da poco credo sia stato rilasciato due mesi fa il timelapse di normal delle scarpe da 1500 km è un bellissimo stunt di marketing nel senso è una cosa che io non sto dicendo che sia che sia falso è una cosa che può funzionare su alcune persone come dicevi prima assolutamente ognuno ha la propria meccanica di corsa se passo 500 km a disintegrare le scarpe sull'interno perché butto sull'interno la scarpa non può avere 1500 km di vita non li regge no mi faccio male prima esatto se tu se tu corri e sfinisci quei 5 cm quadrati sempre di punto d'appoggio preciso chi tallona tallona chi entra su un supinazione a quel bordo esterno che lo massacra chi magari tende a rullare sull'interno lì tu sai che quei 5 cm quadrati li spaccherai molto in anticipo sul resto della scarpa infatti secondo me il discorso del brand che ti vende la scarpa del tipo questa scarpa durerà per 800 900 1000 1200 km lascia sempre un po' il tempo che trova dovrebbe essere una cosa in condizioni ideali una persona che corre senza strani sbilanciamenti la scarpa può durare tranquillamente fino però è tanto personale come cosa mi ricordo una delle ultime volte che ero stato da da un osteopata qui di Treviso mi aveva chiesto di portare le mie scarpe le aveva guardate aveva appoggiato le dita sulla parte dietro sulla conchiglia dove c'è il tallone di solito aveva appoggiato e la scarpa aveva fatto si era chiusa sull'interno del tipo queste scarpe vanno cambiate perché le tue scarpe cedono completamente sull'interno quindi queste non usarle più adesso ti sistemo ma cambia scarpe per favore quindi sì comunque è tutta una una questione però è vero è un quello del del chilometraggio su Treviso secondo me lascia un po' lascia un po' il tempo che trovi Matteo ci chiede bello no prima è Turconi Ops Pegasus Ops E vabbè Ciao Turco me lo facciamo dopo posso chiederti un consiglio io utilizzo su asfalto Pegasus mi trovo super bene su trail uso spesso Challenger ma per loot pensavo a Speedgot anche se mi piacerebbe provare o Pegasus Trail o Zegama che mi dici? Giusto Turco io Turco ho detto cioè avrei detto in realtà avevo aspettato a lui ho detto Turco ne parliamo in prossima Madebag allora Speedgot se la penso a loot è meglio di Challenger tutta la vita e ti lo dice uno che ha fatto loot con le Challenger e le ha buttate a fine luce perché giustamente perché è giusto dovevo essere punito in qualche maniera le buttate era qualche edizione fa però si parla di Challenger 2 o 3 addirittura le 3 poi le ho ricomprate per fare le 100 miglia e le 4 e sono andate da Dio però le 3 purtroppo avevano qualche problema quindi Speedgot sì secondo me tranquillamente testata ritestata discorso Pegasus Trail secondo me non è cioè loot non è non è il suo posto posso pensarla a Cortina Trail per una persona che la chiude sotto le 6 ore e quindi corre bene corre costante corre tutto quello che c'è da correre e allora ti dico un amatore comunque è una società degli atleti l'atleta che te lo fa in 4 ore e mezza sotto le 6 ore Pablo Villa ah sei zitto smettila smettila non è vero fake era una scatola fake e comunque le aveva cambiate a metà sì assolutamente zitti tutti e no vabbè ti dico no attualmente Pegasus Trail è migliorata tantissimo tra l'altro poi parleremo anche più avanti su un'altra domanda della nuova però secondo me non è ancora quella una scarpa per fare un evento così lungo su un terreno del genere no mi dicessi un trail all'americana o magari Big Rock sulla morena di Ivrea ti dico magari su un tipo di terreno del genere allora dai posso pensarla anche in ottica 100.000 ma magari se corri bene sì altrimenti gliela passerei solo in inciclabile a cima banche sì è ospitale ti metti già di quelle scarpe nuove esatto quei 6 chilometri secondo me per Pegasus però belli belli eh chef kiss quanto a Zegama allora Zegama 1 per me è tanta roba è una gran scarpa non so perché io non l'ho mai tanto associata a LUT forse perché l'ho usata tanto l'anno scorso e non mi ha mai dato quell'idea di guarda questa suola portala in Dolomiti divertiti tantissimo però Zegama 2 se aspetti qualche paio di settimane esce e io a scatola chiuse la ordinerei perché secondo me è un gran prodotto con il giusto tuning hanno cambiato questa suola tanti recensori stanno dicendo che questa suola in Vibram applicata a Zegama è proprio una bella cosa ma va grazie tante e quindi secondo me Zegama 2 potrebbe essere un prodotto da LUT assolutamente sì si usisce tanto tanto anche a me penso sia una delle scarpe adesso più attese da poter mettere su e capire esce in maggio mi pare metà maggio si in maggio Mello ci chiede dopo aver guadagnato il gilet finisher di UTMB e l'arrivo della seconda genetica ho dato un taglio alle lunghezze delle gare almeno per il 2024 quest'anno mi cimento su Mare Montana 35 andata Portina 45 deve ancora arrivare Thor 30 volevo provare una scarpa un po' diversa più reattina più reattiva meno pantofolona suggerimenti possiamo dare una facciamo una piccola introduzione su Mello è comunque una persona che ha una corporatura una build esile quindi comunque parliamo di una persona che è leggera si io ho dato consigli a lui anche l'anno scorso sulle scarpe ed eravamo arrivati a trovarci bene un trabucco per intenderci Max quindi scarpa all'automatizzamento lui arrivava alla Speedgot con Mello abbiamo corso insieme anche un pezzo di Tuscani e mi ricordo che avevamo parlato proprio di sta cosa che voleva uscire già l'anno scorso i pantofoloni ma aveva Utene B e si era rassegnato che la voleva fare con una scarpa comoda e poi cosa fare quest'anno invece passiamo a qualcosa cioè giustamente chiedeva qualcosa di più reattivo allora tenendo conto che però Mello non è lo speedster che fa cioè si è esile ma non fa magari le distanze a tutta perché non è una persona da top 10 ecco chi vogliamo bene Mello sappilo sempre però ecco le proposte sono io ho pensato due scarpe proprio pensate per le distanze un po' più corte e due scarpe anzi tre pensate per queste gare corte che devi fare ma che se vuoi portarteli su qualcosa di un po' più lungo ti stanno dietro le due scarpe un po' più tecniche per queste da gara così ho pensato alla ribelle calibra di scarpa e in particolare al modello HT quindi quello con suola più pensata per hard terrain perché comunque abbiamo anche recensito ampiamente su Soul Survivor ed è una scarpa azzeccatissima che se hai voglia di sentirti di correre bene proprio da dire corro questa gara te la fa correre perché ha questa geometria scolpita fit bellissimo devi gestire la base stretta della scarpa chiaramente che un po' va gestita muscolarmente perché è una scarpa da correre andanti e altrimenti le Catamount sono stato generico perché sia la 2 che la 3 vanno bene ora la 3 è la più recente consiglio di comprare quella perché almeno è fresca degli ultimi mesi e di produzione intendo ed è secondo me una scarpa che fino ai 30-40 km per un amatore può andare molto bene gli atleti poi facciano quello che vogliono e se la portano anche a distanze a tritta cifra però è una scarpa da gara 30-40 km ed è veramente valida 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 sia in spinta che in capacità ammortizzante e ti fa sentire che stai correndo su una scarpa che ti chiede il ritmo quindi pensata da gara più corta va benissimo altrimenti 3 scusa no vai vai è una cosa che do in chiusura altrimenti le 3 alternative che consiglierai per pensare anche un po' più in lungo Genesis di Salomon non la versione S-Lab la versione normal che sta dando delle belle conferme scarpa assolutamente valida su quei chilometragili ma anche per una marathon 50 km sicuramente la godi tutta e per una volta sembra che abbiano veramente azzeccato il prodotto democratico ma non da quanto folona ma come poteva essere la ultraglide ma un prodotto d'ambiente più tecnici prodigio torna sentiremo parlare tanto di prodigio quest'anno quindi è giusto che stia lì e se no ho pensato anche alla Merle GDT Peek 5 che è una specie di SpeedGoth ma più tecnica e un po' più bassa anche sotto le dita e quindi ti fa sentire che stai correndo su una scarpa sì spinta ma un po' più comoda ecco una buon punto diciamo se dovessi pensare a SpeedGoth e Catamount in mezzo ci metterei la GDT Peek un po' da fare da ponte tra le due sì sì assolutamente è un grip della madonna assolutamente proprio aggressiva in suola voglio dire secondo me questa cosa di Mello è figa e molta più gente dovrebbe farla siamo abituati soprattutto chi corre chi fa lunghe distanze è abituato ad avere la propria scarpa portiamo a caso la SpeedGoth e a usarla a scalare per qualsiasi sia distanza a scendere però tutti bene o male nel corso dell'anno abbiamo la gara A la gara B e la gara C io consiglierei veramente alla gente nel momento in cui si corre la gara C o la gara A è già stata fatta quindi c'è più possibilità di divertirsi provate scarpe diverse perché veramente per per distanze più brevi c'è c'è un mondo e a volte veramente quello che usiamo per distanze molto lunghe sono pantofoloni molto comodi non eccessivamente reattivi un po' più rigidi eccetera e secondo me c'è tanto da divertirsi con scarpe un filo più più reattive più morbide più più agili e secondo me è figo anche pensare dire ah io magari metà dell'anno me lo posso investire testando scarpe nuove poi per l'anno successivo dopo ancora quindi magari una cosa che stanno facendo sempre di più i brand adesso sono veramente le possibilità di test scarpa hai nei negozi basta prendere la scarpa ti intera due giorni e quello lì è fondamentale adesso per gli amatori perché adesso io e te abbiamo possibilità mettere i piedi provare cose mi rendo conto che dopo far l'acquisto pensando solo a delle gare magari qualcuno puzza giustamente non dico niente sfruttate i test anche di una scarpa che non vi ispirerebbe però sfruttate i test prendete una scarpa diversa dal solito vi potrebbe veramente stupire e su una distanza corta vi divertite di più che non a fare la solita distanza corta come dici te con l'utilizzo trasversale della scarpa d'allenamento che usi solo quella la scarpa d'allenamento è seduta probabilmente si è seduta sui tuoi ritmi e non è che mai non ti dà chissà che sensazione poi io ci sta cioè giustamente dicevi che tu le scarpe ormai costano costano un disastro però se c'è se c'è la possibilità di testare cose nuove andate via rapidi fatelo perché secondo me ci sono tante cose interessanti da testare da quel punto di vista e alla fine secondo me tanta gente magari anche arriva in questo sport magari adattandosi a un brand ma magari poi alla fine dei conti non è nemmeno il tipo di scarpa che funzionerebbe meglio per lui quindi testare quanti più brand differenti uno un po' prova anche a capire cosa funziona meglio per il proprio piede per la propria meccanica di corsa per il proprio stile di corsa Alessandro e non sono io chiede ciao Tommy quindi a me non zero sono escluso da questa da questa richiesta probabilmente ti era arrivata in privato secondo me volevo chiedere un tuo parere su Salomon S-Lab Genesis secondo te possono andare bene per persone over 80-85 kg grazie mille Magdalena vi ringrazio qui si apre namastè qui si apre la nostra questione del peso dell'atleta per che è una di quelle cose in cui cerco di entrare il meno possibile perché l'atleta non è un numero del proprio peso l'atleta è peso per muscolatura potenza tempo di contatto quindi quanto riesco a spingere quel peso lì quello ti fa la differenza in termini di usura della scarpa se proprio devo pensare a correlare i due dati scarpa e peso ma ci sono scarpe ci sono atleti molto pesanti perché sono muscolosissimi molto pesanti relativamente molto pesanti perché sono muscolosissimi quindi si trovano bene solo con scarpe secche e dure perché loro hanno bisogno di mettere a terra tutta la forza di sentirsi assolutamente a terra li metti sulla classica scarpa di medio ammortizzamento ma anche la speedboat che ogni tanto esce vanno in crisi perché non sanno usarla è un po' la stessa cosa quindi la Genesis posso portare quel peso lì tranquillamente ok dipende come ci corri sopra ci corri con una rullata piena attacco punta ma ti dura anche abbastanza ci corri con un marcato atterraggio in una zona particolare della scarpa magari rispetto alla persona che pesa 70 la macchina la finirai prima con la scarpa lì ecco ha una zeppa molto confortevole con un buon grado di compressione torna anche bene in forma quindi promette anche una consente una buona usura in generale però inizialmente se hai un appoggio con qualche bias te lo farà sentire quella scarpa lì perché è morbida le scarpe morbide se hai un appoggio marcato in un certo punto te lo fanno pesare e quindi questo si traduce che ti durano meno per cui magari ecco posso portare quei pesi lì anche tu scrivi over 85 magari un peso anche più alto sì ma dipende dalla tua struttura fisica ci sono scarpe che su quel peso lì ti durano di più assolutamente sì però magari purtroppo la direzione che sta prendendo il mercato in questo momento fatta di schiume molto morbide prendiamo sempre di schiume ma alla fine il cuore della scarpa è quello lì non gioca tanto a favore di persone che corrono magari pesantemente nella scarpa non il peso è persone che corrono pesantemente perché la scarpa si esualisce un po' prima infatti il peso è anche lì un dato un po' relativo veramente la meccanica da corsa che guida se uno corre molto bene ma pesa 120 chili può correre anche con delle zinal 2 per assurdo ma poi nel momento in cui sei leggero sui piedi peso 80-85 chili quindi un peso medio alto magari non so rispetto alle chart degli atleti che pesano 60 immagino che 85 sia medio alto e devo fare cortina trail e sono bravo e lo faccio in 6 ore e mezza secondo me se c'è una Salomon Genesis non devi neanche porre il problema però devo fare una loot in 25 ore magari ci sono scarpe migliori di Salomon Genesis rapporto scarpa peso meccanica tempo ecco Giorgio chiede volevo un consiglio su una scarpa la Mountain Racer 3 come ti sembra? l'hai provata? ho la 2 e stavo pensando di prendere di provare la 3 conosco Giorgio e l'ho già presa nel frattempo però non l'ha aspettato l'avevamo parlato anche nel video comunque questa è una scarpa che sono proprio deluso ma deluso tantissimo perché allora premessa sì corsa provata la 3 io nella 2 ho avuto 2 paia ormai una scarpa che ha già 2-3 anni e forse l'ultimo paio l'ho avuto più di un anno fa ah sì forse perché avevo la ripresa in saldo con mezza taglia di differenza mi l'ho trovato bene ma non benissimo comunque classico classica scarpa e qui corri con le dita tranciate però è tanto bella la scarpa la 2 è una scarpa della madonna veramente una scarpa della madonna però cos'era mountain racer 2 era una scarpa che si distingueva da tutta la line up di topo perché era l'unica pianta un po' più fasciante con un post mediale che dava stabilità sull'interno piede un grip un po' più tecnico una struttura in tpu un po' più rinforzata e una una schiuma non troppo morbida quindi era una scarpa relativamente dura rispetto al resto non durissima ma è però relativamente dura è una scarpa di media altezza ed era il loro prodotto tecnico ti dicono al running event di due anni fa che la 3 arriverà con la nuova zeppa rivisto materiale alzata di 3 mm pigardi e dici cazzo questa sarà una scarpa della madonna invece no è una pantofola una pantofola che è esattamente identica a tutte le altre topo l'unico plus è che magari la serie della 2 era molto simpatica da utilizzare per treni tecnici magari sugli sterratori incorribili preferivi una scarpa con un po' più di giro sotto il piede la 3 ottiene questa cosa però non è più mountain racer cioè devono chiamarla un'altra cosa è proprio un'altra scarpa è una scarpa da endurance da 3 corribili si trasmette che sono deluso questa scarpa guarda hai una delusione addosso che è totale ne avevamo parlato anche nel primissimo video di anteprima delle scarpe ed era una cosa che ti era rimasta sei proprio ferito ferito dentro veramente come se il tuo Beniamino avesse fatto un cambio di direzione guarda la mountain S2 era una di quelle scarpe sicuramente non perfette aveva difetti come era un po' calda un po' insomma aveva le sue lows però quando le mettevo su sentivo che potevo correre bene correre mai ci ho mai fatto più di 30-40 km e mi andava bene così volevo che fosse la scarpa per fare quelle cose lì e la 3 mi ha deluso tantissimo così morbida ma poi hanno anche hanno anche allargato la last cioè proprio più largo quindi per fare un sunto anche qua la 3 l'ho provata e non mi è piaciuta Giorgio se ti piace i fan di Topo continueranno ad apprezzare probabilmente la 3 secondo me non ha niente a che fare con una scarpa da gara di qualsiasi altro brand e se la chiami racer quella lì deve essere una scarpa da gara quindi è un problema tuo Topo non ha niente a che fare non riceveremo mai nulla da Topo da Topo no no e quindi secondo me il problema è un po' questo cioè le aspettative rispetto alla scarpa poi se uno l'analizza dal punto di vista del comfort e dell'ammortizzamento voti altissimi perché effettivamente la zip foam che questa schiuma che hanno loro ha una bella mano ti avvolge bene ti sprofondi giusto ti dà un po' di pop ma non è più una scarpa tecnica e quindi secondo me potevano darci un nome nuovo e avrebbero fatto migliore la figura ok grazie Topo è stato bello lavorare veramente parli da uomo ferito domanda da ah ecco scusami apro perché mi è arrivata una domanda in privato anche prima di Ultra Bericus dopo di un atleta di Diu che aveva visto il webinar di Ultra Bericus e mi aveva chiesto ma io ho sia la 2 che la 3 mountain racer cosa mi consigli per un percorso del genere io ho detto usa la 3 perché è un percorso corribile secondo me ti troverai se ti trovi bene con tutte e due usa la 3 ti troverai meglio mi avessi detto devo andare a fare la maratona alpina gli avrei detto usa la 2 è più tecnica in discesa oddio probabilmente questa specifica verrà molto ben capita una maratona alpina allora dai una maratona alpina e nello specifico nella provincia di Vicenza però sono contento per gli ascoltatori di Vicenza che hanno effettivamente capito la differenza adesso tra le due scarpe guarda me l'hai spiegata e l'ho capita all'istante al volo vero fantastico ciao ragazzi percorrere LUT 120 bravo che già usa il nome il giornato della gara consigliereste Asics Gel tra buco 12 fino ad ora mi sono trovato molto bene con Oca ma fate Speed 4 e con Oca Challenger 7 ma non mi sono trovato così bene con le Oca Speed 5 non ho la pianta larghissima ma preferisco le scarpe un po' più ampie e peso circa 73 kg un sacco di gente ci dà il peso fino ad ora alle gare a cui ho partecipato sono arrivato un po' prima della pancia del gruppo ho provato anche le Brooks Caldera 6 e non mi hanno entusiasmato ho provato solo il negozio altra Timp ma sarebbe la prima scarpa a Drop Zero eventualmente avreste qualche altra scarpa da consigliarmi grazie per quello che fate siete i migliori grazie a te amico anonimo cosa gli dici della Galzix per buco 12 gli diciamo ok io gli dico magari se devi provare Drop Zero prova le al di fuori di un contesto questo questo sì anche perché è una cosa un po' particolare e per persone che magari non hanno problemi una volta mi ricordo la mia primissima altra che avevo comprato un escalante all'interno della scatola non so se questa cosa c'è ancora devo essere sincero non ho mai più guardato all'interno della scatola c'erano delle istruzioni su come abituarsi al Drop Zero ovviamente veniva venduto il concetto di Drop Zero e ti dicevano guarda non correrci da subito in uno smerdaro di chilometri termine tecnico questo fai una una sorta di avvicinamento quindi alterna con le scarpe che sei solito usare eccetera questo perché perché il tuo tendine d'Achille che è abituato a stare un pochettino più accorciato con la Drop Zero viene allungato e uno dice sì vabbè ma viene allungato di quanto? di 5 mm cosa vuoi che siano? abbastanza e quindi diciamo era una delle difficoltà però per gente che magari ha avuto problemi in questo tipo di transizione e tuttora non riesce magari a usare scarpe con Drop Zero c'è anche gente che riesce ad alternare senza problemi senza alcun tipo di avvicinamento un Drop Zero e un Drop 3, 4, 5, 10 o quello che è però ecco non andrei direttamente in gara perché più che altro secondo me su gare come Lutte dove c'è tanta salita discesa tanti cambi di dipendenza va tanto a usurare quella parte del piede vuoi usare vuoi testare delle timp le timp nuove secondo me sono molto interessanti grosso punto di domanda sul calore che la scarpa riesce a dissipare sembra una scarpa un po' calda e se solo tornasse il caldo vero vorrei testarle a modo però sì la trail test al di fuori di un contesto gara scarpe da cui arrivi ma fate challenger io non sono stato mai grande amante del challenger è un mio problema di stabilità generale soprattutto in termini di Anka grande utilizzatore doppio pollice su sperando di non avere le reaction attivate ma fate ok speedgot posso capire cosa intendi sul discorso di non essersi trovati così bene soprattutto se poi arrivavi dalla 4 che era tanto più stabide però per quanto mi riguarda tra buco 12 per me è doppio pollice doppio pollice su rispetto alla 11 chi è passato la 12 mi ha detto che la percepisce un po' più precisa cioè un po' meno cushioning sotto le dita il resto è invariato penso sia dovuto il fatto che la 12 monta una nuova tomaia e ti senti un po' più più chiuso ecco e quindi magari hai una sensazione più netta più precisa sotto le dita però secondo me se non ti sei trovato così bene con le con le speedgot ma ti sei trovato bene con mafate ma non vuoi prendere una oca tra buco male non va se vuoi provare qualcosa di diverso sempre il mondo per virgolette oversize morbido ma non così cedevole tipo non ti sei trovato bene con le speedgot per intenderci io su caldera ci tornerei ma non le 6 tornerei direttamente le 7 hanno fatto un lavoro l'hanno proprio ripresa in mano da capo a piedi la scarpa è molto diversa da prima è più stabile hai più sensibilità a terra nonostante ci sia un bel suolone il grip l'hanno cambiato cioè è proprio una bella caldera la 6 non mi ero anche secondo me non era non aveva dei problemi dovuti alla rigidità della schiuma ti faceva perdere un sacco di stabilità ma la 7 si adatta proprio bene ed è una scarpa che a Cortina quest'anno per la prima volta dico è la Brux che vedrai meglio sui sentieri anche meglio di Cascadia e legato al discorso LUT una cosa che non mi stancherò mai di dire non so se è un parere mio molto personale per quanto mi riguarda LUT sono due gare separate quindi il mio consiglio è avete tempo avete la possibilità cambiate se non siete convintissimi sulla scarpa cambiate la metà gara perché la prima metà di gara è più corribile della seconda metà di gara dove camminerete molto quindi e dove ci sono dove c'è il grosso del dislivello quindi secondo me per quanto mi riguarda dalla mia esperienza personalissima sono due gare diverse quindi ci può stare anche magari due scarpe che hanno un approccio un approccio differente sì io non mi sbilancio tanto sul dire cambiate non cambiate però se dovete cambiare cercate di passare dalla prima alla seconda scarpa a una scarpa più stabile perché sarete un po' più stanchi quindi non passate da una zeppone larga con mega base d'appoggio a una scarpa strettissima che dovete gestirla voi con gli aduttori con la caviglia con il tendine l'achille per stabilizzare ecco se mai il contrario andate sempre verso la scarpa più stabile non viceversa se dovete cambiare no sono anche per lo meno cambiate le calze fatelo per i vostri piedi Gioele chiede consigli scarpa da utilizzare per un ultra sky race quelle di cui siete sicuramente super appassionati è il nostro pane quotidiano in particolare il Chima lo faccio due tre volte l'anno sono molto indecisa nel trovare una scarpa leggera precisa negli appoggi ma che ti supporta per una cosa tipo dieci ore di gara io ero per l'inzinal 1 usata l'anno scorso per sky race fino ai 35 km altre proposte? grazie Gioele una cosa divertente è mettere in relazione una sky race fino ai 35 km e le dieci ore del Chima che però secondo me rende benissimo prima sono 50 però tutti sanno che 10-11 ore tranquillamente si sta in giro tranquillamente io ho pensato innanzitutto faccio queste considerazioni sulla base che c'è scritto che voleva usare Zinalo 1 bravo perché Zinalo forse è una scarpa che al Chima non aveva importato è difficile darti forse una cioè mi avessi detto devo sostituire Zinalo 1 spoiler è una delle prossime domande avrei avuto una risposta un po' più pronta però tu devi cambiare Zinalo 1 ma devi fare 10-11 ore e forse Zinalo 1 dopo un po' di ore sono così lasse e sono così tavola piatta che non ti danno grande supporto e stabilità per cui ho pensato a Dynafit Alpine DNA 2 è una scarpa che mixa un buon profilo perché non è altissima ha una grande stabilità c'è sensazione di stare a terra altissima e Alchima ti serve tantissimo perché tolta la prima forcella quindi le prime due ore sparo di gara poi devi metterti a fare lastroni per altre 8 ore 7 ore e dopo hai una discesa finale sto sparando giusto per darvi le proporzioni di tempi di percorrenza però in tutta quella parte di lastroni poca corsa tanta camminata tu vuoi stare col piede stabile con la tomaia che segue la scarpa e con la zeppa che non si deforma per questo io la Zinalo non ce le avrei viste per fare quelle ore di in giro almeno per cui questa DNA2 io la proverei la calzerei almeno perché ha una calzata molto particolare rispetto a Zinalo è più stretta e deve piacere però veramente quando la metti su sei tutt'uno con la scarpa cioè tu da lì non ti muovi ha un inserto in termoplastico all'interno del mesopiede per dare stabilità e questo aiuta anche a non mandare in torsione la scarpa è veramente è veramente valida ecco stavo pensando ad altre alternative sempre a pianta magari un po' più comoda però stabile col profilo basso ho fatto un po' fatica onestamente a pensarla in ottica sky race ho pensato a Bushido di la sportiva è un evergreen è un po' tozza magari però è una scarpa che ha fatto la storia dello sky running se non hai problemi a marciarci dentro tante ore perché comunque ha un profilo abbastanza basso secondo me come una gara settoriale come un kima andrebbe bene sto pensando anche a Merrill ma secondo me probabilmente hanno una tomaia poca strutturata per quel tempo la suola è fantastica ma il resto secondo me è un po' più poverello il bello di Bushido e dell'Alpine di Dynafit è che hanno un tappo di tassello non così appuntito ma abbastanza spesso e spalmato e quindi su sasso liscio se devi fare ogni tanto andare in dimescola ti dà più garanzia rispetto al tappo della Merrill che è proprio artigliato e magari bello sul terreno friabile magari ti scoppa via un po' di più sul sasso Michele ci scrive buongiorno scrivo per il puntatone di Mailbag è il posto giusto il puntatone di Mailbag vorrei cambiare orologio uso un Garmin Instinct con il quale mi trovo benissimo ma ho bisogno di un orologio che riesca ad accompagnarmi per l'intera durata di una centomiglia cosa consigliate innanzitutto vabbè noi sappiamo che ogni tanto Michele Leoni ci scrive ci scrive su Instagram quindi sappiamo che probabilmente deve correre il Big Rock quindi sappiamo che non sta in giro 45 ore di centomiglia perché esistono anche i centomiglia da 46 ore si insegna il B quindi io però ho pensato di dargli subito un'alternativa magari non aggiornata ma un po' più economica che si può trovare sul mercato facilmente ed è il Garmin 955 anche perché arrivando da Instinct è un enorme passo avanti con il 955 ma proprio 3000 passi avanti e non devi andare sull'ultimo della gamma appena uscito che è il 965 perché non ne hai bisogno cioè per contestualizzare per chi non ha mai utilizzato un Garmin Instinct è lo schermo in bianco e nero è tipo il Tamagogy degli orologi però funziona da dio e non dico niente è il Game Boy ma non è Color appena passi il 955 ti svolta la vita è un orologio ipercompleto entri nel futuro ti fa minimo 30 ore di batteria e ti togli il cardio va benissimo anche qui togliendo il cardio anzi ti prolunghi ha un'automia della madonna a grandissima precisione non sarà aggiornatissimo perché è un orologio che ormai fuori già forse da quasi due anni ma continua a essere aggiornato e ripeto hanno appena fatto uscire il 965 che è solo un aggiornamento amoled dello schermo del display bellissimo però amoled è bellissimo però allo stesso tempo per chi arriva dal Tamagogy mi viene a dire che non ne hai bisogno ecco quindi ti puoi godere tranquillamente un 955 puoi ridagarmi me lo confermi anche tu che hai usato Poros Apex Pro o il Pro 2 che adesso è fuori sì esatto e lì vai a forse il mio è solo Apex 2 adesso mi viene il dubbio no comunque io andrei su Apex Pro 2 perché lì vai il cambiamento col chip e hai una batteria della madonna e vai a che ne so adesso col dual band quindi col GPS doppia frequenza a 40 ore solo se togli il dual band lo usi in singola frequenza Galileo che l'hanno stato attaccato fai 70 ore ma ormai negli ultimi due anni comunque c'è stato un'esplosione per quanto riguarda il discorso della durata della batteria ormai praticamente ogni orologio mi ricordo c'era stato un periodo nel uno dei primissimi periodi in cui facevo trail che ovviamente tutti avevano assunto ambit 2 o 3 ed era quello che aveva la batteria che durava assieme a forse al Fenix 2 cosa di questo tipo in linea di massima gli altri orologi che uscivano mi ricordo aveva uscito l'assunto Spartan che aveva una durata credo di 4 ore gli orologi base duravano poco adesso vai a prendere un orologio base e ha già di base una durata da 20 ore e magari ha uno schermo full color puoi staccargli tutto quello che non ti serve in gara perché poi sinceramente a meno che tu non abbia bisogno di andare a vedere quello che è il tuo battito cardiaco in gara io mi ricordo a 100 miglia cose di questo tipo staccavo tutto avevo l'ora del giorno e i chilometri fatti non avevo nemmeno il passo perché non lo volevo e a volte mi era capitato anche di buttarci dentro la navigazione e comunque di avere batteria da vendere a fine gara quindi ormai è più difficile trovare un orologio che ha poca batteria rispetto a uno adesso secondo me trovi anche insunto che appunto come dicevi tu non era conosciuto per queste batterie all'inizio perché magari soffriva un po' la leggerezza delle vete di Garmin e adesso gli ultimi ho assunto race e il assunto vertical infinito infinito assolutamente infinito e con AMOLED attaccato assolutamente tanta roba però mi rendo conto che se uno arriva da Garmin e non ha voglia di cambiare assolutamente trattura e di imparare qualcosa di nuovo secondo me adesso il 955 è fantastico io non devo vendere niente a nessuno però però sto parlando di digitare Garmin 955 su Google e mi hanno appena proposto 380 euro e niente per un orologio che costava 500 fino all'anno scorso non è non è il più economico credo l'Apex 2 costi 100 euro meno no di tutti forse è Coros tu dici Apex 2 però perché io parlavo perché il Pro 2 invece penso sia ancora a 499 ed è parito non è parito poi per parità il digiornamento ce l'hai in due anni poi va detto che parliamo di la scarpa sai almeno devi cambiare due tre l'anno due tre uno strada non ho idea il bus è una di quelle cose che diciamo sempre secondo me è un tre anni buoni se lo usi ti dura ecco l'orologio è uno di quegli oggetti che se ci investi un po' di soldi 5 anni te li fa senza alcun problema l'importante con gli orologi è non comprare un iper cheap solo perché sono tre anni che non lo aggiornano perché probabilmente ti rimani fregato dopo poco e magari non vale la pena quindi almeno avere quelle lungimiranze lì però non è il caso di questi qua che abbiamo elencato però è uno dei classici oggetti che poi compri come lo zaino poi c'è gente che lo zaino magari lo cambia ogni anno perché ha bisogno di avere il colore giusto rispetto al proprio kit però lo zaino ti dura Matteo chiede aiuto help orfano di Zinal 1 in cerca di nuova scarpa torniamo su Zinal qualche dettaglio in più con Zinal 1 mi sono trovato ad Dio non troppo alta molto stabile apprezzo molto l'ampiezza della suola su tutta la pianta del piede per me è fondamentale la uso per distanze marathon e sub marathon su un po' tutti i tipi di terreno peso 60 kg possiamo specificare che da nessuna parte nel nostro forum c'è scritto darci il tuo peso non vogliamo profilarti non darci il tuo peso però giusto per specificare poi magari qualcuno vorrebbe fare la domanda però è tipo no ma io non voglio dire quanto peso non serve potete però mi rendo conto che sia un dettaglio importante nell'ottica livello da buon amatore maratona sub 3 grazie nel trail prestazioni paragonabili 2.59 2.59 comunque secondo me secondo me sub 3 sub 3 sai che però 2.59 2.59 io me lo vendo come due ore alto di solito quanto hai fatto in gara 12.59 12 alte non dico sub 13 suona sbagliato suona male consiglio per le persone che ascolta aspetta complimenti e grazie per i podcast se piano piano sto aumentando le distanze nelle gare è anche il colpo vostro dico anche i complimenti hai ragione dobbiamo sfatare questa cosa che non li leggiamo mai no allora per non ripetere un po' quello che è stato detto prima con la Dynafit Alpine che potrebbe comunque essere un buon prodotto però questa persona qui magari giustamente specifica che ovviamente ha un passo abbastanza dinamico pesa poco ho optato per due scarpe un po' più leggere come consiglio soprattutto da Merrell non più la GDTP ma la MTL Long Sky 2 che adesso è uscita anche in versione Matrix è stata una scarpa sui radar di Buckle per tantissimo tempo bellissima e ora che abbiamo preso in mano anche la Matrix è una figata ed è una scarpa che per profilo anteriore e ampiezza ricorda molto Zinal come tipologia di spazio allo stacco da terra è molto simile perché fa 23-19 Zinal era era un po' più bassa ma ci avvicinava era nell'ordine dei 21 per cui insomma 22 al posteriore quindi insomma era molto simile sensazione di rullata abbastanza simile perché non hanno non è una scarpa con rocker come non lo era Zinal chiaro non è la stessa scarpa però si avvicina molto grip è veramente buono e averla Tomei in Matrix se si scegli se si opta per la versione più aggiornata ti cambia la vita perché la durata è la scarpa infinita ed è un Matrix veramente gestito bene sulle piattaforme di corso altra scarpa la Normal Sherag che probabilmente è una persona così leggera magari riesce appunto a muoversi bene se la gode se la gode parecchio è un prodotto adatto è molto spaziosa davanti un po' più stretta delle merre delle Zinal a livello dell'arco plantare del mesopiede quindi magari non è proprio la scarpa al 100% identica però se sei in grado di correre molto bene con una Zinal 1 probabilmente è quella chiara che ti diverti un sacco perché è una scarpa un po' più reattiva e ti fa correre un po' meglio anche sul frontale sulla parte anteriore ma è più tecnica ecco io sulla Merrell non sbaglierei 198 grammi una meraviglia una piuma posso buttarci dentro anche o magari no scarpa spin race pensavo la on non la volessi buttare dentro no non esageriamo spin race eh allora leggerina bassa veloce si può stare è un po' più secca in battuta sì assolutamente sotto le dita proprio sotto non ci sta è un po' più non l'avrei buttata dentro solo perché dipende dalla distanza magari quella lì ho proprio una scarpa che penserai cazzo un paio un paio d'ore e ci starei dentro di più un po' da capire e invece MTL Long Sky magari posso anche fare fino a una marathon una persona con quella con quella caratura lì me la portereai dietro di più anche una chiara che fino a una marathon la race di scarpa invece è cattivella e bisogna magari avere proprio anche tecnica al di là dei tempi Poncio chiede ciao ragazzi Scarpa e Kailas grande novità del mercato le avete testate tanti parlano molto bene della fuga X3 ma sembra ancora abbastanza sconosciuta sapete dirci qualcosa? intanto dico che l'abbiamo fatta vedere nel video di anticipazione 2024 se uno è curioso di vederla maneggiare infatti mostrata e testata soprattutto e Kailas sta iniziando adesso a farsi vedere un po' sul mercato europeo che eravamo l'anno scorso con il loro con un tech rap a Chamonix reale all'expo dell'Utmb e giustamente ci diceva guardate questa è tutta la nostra gamma ma in realtà le cose su cui puntiamo per il mercato italiano sono queste perché alcune cose sono così esotiche che probabilmente adesso in Europa avrebbero capite ancora poco l'ho capito il ragionamento che appoggio e capisco di provare a vendere una cosa che non può far funzionare in Europa però l'X3 non fa parte di queste scarpe estreme e secondo me è molto interessante come prodotto è morbida perché ha una bella schiuma proprio ne provavamo anche prima interessante anche per utilizzi lunghi ecco la parte di drop è forse quella che mi dà più fastidio a me personalissimo perché senti che il baricentro della scarpa è sul tallone vuole che tu usi quel tallone lì per correre non puoi bypassarlo è molto alto si fa sentire aumenta quasi l'altezza perché si schiaccia così tanto la schiuma che te lo fa percepire un po' di più quindi una scarpa protettiva assolutamente protettiva lo stack è 35-27 per intenderci se uno vuole far sfigurarsene un po' in testa è più alta anche di qualche oca per intenderci al posteriore la rullata la senti partire da dietro ti accompagna fino all'avampiede ma non è così incisiva che davanti senti che ti slancia perché appunto la schiuma è morbida e quindi si siede un pochino però la forma è interessante la geometria è comoda per farsi lunghe distanze se uno provandola capisce che ha trovato una scarpa che come rullata se la gode secondo me può farci qualsiasi cosa dalla marathon alla gara anche più lunga anche una gara in dolomiti tranquillamente la scuola è buona è proprio un prodotto che si adatta bene al nostro mercato oltre alle X3 onestamente non ho visto ancora scarpe che faranno fortuna di Kailas così a prima vista sì come dicevi giustamente stendo un po' capendo anche quello che è il mercato europeo è interessante vedere che comunque dall'anno scorso a quest'anno il loro parco atleti si è ampliato ulteriormente anche in Italia la scarpa comunque in via di massima la si vede adesso qualche negozio la porta eccetera mi aspetto anche che ci sarà un po' di un po' di presenza alle gare un pochettino più grosse è questione è questione di tempo poi diventerà semplicemente uno dei marchi probabilmente se avranno abbastanza pazienza e abbastanza voglia di spingere il prodotto ecco una nota a margine se qualcuno in passato ha provato ma è uno scorso immagino non chissà quanto ha passato remoto però qualcuno magari ha provato la Fuga X2 e non gli è piaciuta perché gli sembravano troppo rigida lo era era anche più reattiva infatti qualche loro atleta Kailas mi ha detto che preferiva la 2 e la 3 per la reattività però se qualcuno l'ha provato la 2 ha detto no è un po' troppo dura non è la mia scarpa provate la 3 perché l'hanno proprio rifatta ed è molto interessante adesso molto più anche democratica come prodotto Kailas probabilmente rientra all'interno di quei brand del sarebbe bello provarla però la difficoltà la difficoltà c'è nel caso basta andare a sciamoni tanto presumo saranno ancora lì con lo stand qualcosa di test si inventeranno altra domanda Sandro chiede oltre ad altra quali sono le scarpe con pianta bella larga sulla parte davanti risposta altra e top mountain racer 3 però devo essere sincero in termini di comodità io a me che piacciono comunque le scarpe corro molto bene anche con lo apprezzo il fasciante c'è un momento per il fasciante e c'è un momento per lo spazio in avampiede lo spazio davanti che ti dà altra è impareggiabile nello specifico Olympus 5 è una cosa incredibile Olympus 5 è una scarpa ricorrente è una gang ricorrente del chat mi è ideale che io quando mi sono fatto male appunto al mellino con questa frattura al metatarso quest'inverno Olympus 5 è la scarpa la mia go-to scarpa per andare a camminare col cane adesso perché non senti niente è comodissima e anche se ti sei fatto male appunto hai fratturato un metatarso riesci a usarle tranquillamente che poi la cosa allucinante è che su una scarpa del genere dici così tanto larga che non avrà nessun tipo di struttura o stabilità invece no per quanto mi riguarda fascia perfettamente il collo ha una bella pianta larga sotto una bella piattaforma è proprio una bella scarpa piangerò il giorno che uscirà un Olympus 6 sarà la mia la mia mountain racer 3 esatto sì no è comunque allora altra topo larga anche topo la differenza di altra però non è larga tutta la scarpa si stringe un po' al mesopiede e si fa sentire per me è piacevole magari per altri utilizzatori che vuole stare largo meglio stare su altra e poi altri brand così larghi non ce ne sono però ci sono delle scarpe magari non dichiaratamente a top box ampio che fanno dei modelli comodi new balance e north face secondo me sono scarpe che proprio per la loro concezione di scarpa vestono comodo non sono disegnate a forma di piede come topo e altra però riesci a usarle tranquillamente e sentire che hai spazio davanti new balance e north face è la mia impressione o il mercato ultimamente sta stringendo sempre di più gli avampiedi qualche anno fa ti avrei detto di sì però lavoravo in negozio e vedevo cioè vedevo più piedi anche adesso provando cose molto di recente ho veramente trovato poche scarpe che ho detto cazzo non riesco usarla questa è troppo stretta ok no perché mi è sembrato tipo tante scarpe nuove che abbiamo visto era tipo ah ecco la la nuova versione di X sembra un pochettino più stretta davanti è un pochettino più fasciante davanti non so se magari è una questione di materiali magari semplicemente la forma è rimasta quella che è ma magari il materiale è un pochettino più fasciante o magari la tomaia un po' più rigida più strutturata non ho idea o appunto ci sono delle strutture che la rendono un po' più più chiusa però ecco avevo questa impressione del tanti nuovi modelli mi sembrano un pochettino più più stretti un po' più puntiti un po' più lunghi e meno larghi qual'era la scarpa l'avevamo vista forse sul secondo video delle anticipazioni delle scarpe del 2024 era la la ultra francesco che era un filo larga in avampiede no era più stretta c'era una scarpa che abbiamo detto una scarpa che abbiamo detto questa l'hanno allargata resterà il dubbio in realtà questa cosa era stata fatta apposta così la gente può andare a vedere il video e dopo due ore dire ma da nessuna parte hanno detto questa cosa grazie vostri ormai ci avete dato ascolti Simone chiede ciao ragazzi sono indeciso tra maffata e prodigio ho in programma loot e big rock morenix spero 100 miglia se il coach di mi autorizza grazie ma mi spiego quante paragoni tra maffata e prodigio abbiamo fatto quando abbiamo fatto la resenzione troppi ma secondo me sono due scarpe che non andrebbero paragonate ma anche secondo me adesso io e te abbiamo corso tantissimo se mi dici prodigio e speedcoat sì assolutamente però a me non verrebbe mai in mente allora presupponiamo che io e te ci siamo trovati benissimo come ho fatto quindi non dobbiamo non stiamo mettendo da parte una scarpa rispetto all'altra e ci siamo trovati bene con prodigio ma prodigio è una scarpa un po' più nuova un po' da provare chiaramente ma infatti abbiamo fatto oggettivamente più strada però perché è proprio difficile far capire che sono difficili da mettere vicine poi a rendere cose complicate ci si mette lo stack di altezza che ma fate fa 33 29 prodigio fa 34 28 quindi sono virtualmente identiche ma sono così diverse in tutto il resto che sono proprio delle scarpe da usare in maniera proprio difficile e metterle in paragone cosa si può dire io userei entrambe in entrambe le gare nel senso devo essere sincero sia per LUT che per Big Rock per quanto non conosca il percorso di Big Rock Morenick però me l'aspetto abbastanza corribile visto da dove arriva in termini di gara beh no oddio forse ma fate su Big Rock potrebbe essere problematico a meno che tu non non vada via con un ritmo abbastanza tranquillo e rilassato non lo so prodigio poi è una di quelle scarpe che sicuramente ne vedremo tante a LUT per quanto mi riguarda è una scarpa che secondo me fa fa benissimo la prima metà gara potrebbe non essere per tutti nella seconda metà o meglio potrebbe non essere per tutti per tutta la gara sì 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 quello quello intendi cioè uno potrebbe mettere su un'altra metà gara e farsi assolutamente ecco mi rendo conto che noi di te ruotiamo sempre intorno a questo tema qui quasi a voler far sotto intendere che prodigio non è una scarpa da ultra prodigio è una scarpa da ultra ma non è forse quello che uno si aspetta di avere i piedi se arriva da maffate ecco visto che parliamo di maffate che poi lo dicevamo anche nella review è il ci correreste a 100 miglia sì io ci correremo le 100 miglia in inghilterra però sì esatto nel senso con l'idea di tenerla ai piedi per 160 chilometri questo è questo il discorso no no infatti maffate allora la diversa differenza per rispondere alla domanda è che se di maffate ti piace la morbidezza un po' alta la grande grado di compressione della schiuma il fatto che puoi buttarla un po' ai piedi perché tanto la zeppa è larga e ti raccoglie e ti tiene dritto e ti porta in giro lei un po' con una specie di cruise control prodigio forse non è la scarpa per te perché prodigio vuole nel suo cor il prodotto farti correre bene però vuole che tu corri già abbastanza bene cioè vuole che tu sia già bello posizionato vuole che tu sfrutti la rullata non butti dal piede perché anche la base di appoggio di larghezza è più stretta quella di prodigio di quella di maffate quindi va da sé che prodigio è per tutti assolutamente sì ma farci una loot è per chi ci ha fatto veramente tanta pratica non per chi magari è abituato con le oversize decide di voler usare prodigio per loot poi si rende conto che non c'è abbastanza cuscinetto per il suo tipo di corsa mi rendo conto che sia un discorso un po' dispersivo un po' ridondante però io cioè potevamo chiudere questa domanda dicendo non bisogna mettere in competizione diretta queste due scarpe al momento in la sportiva manca un prodotto che sopperisca a maffate cioè che vada a paragonarsi a maffate al 100% prodigio non è quel prodotto lì prodigio è una speedgo che poi sia un po' più premium come materiali ma il più durevole è tutto bene però non è maffate perché poi devo essere sincero anche usare speedgo per un'intera loot non è per tutti è una scarpa che ti richiede comunque io adesso ora come ora mi butterai via i piedi probabilmente dopo perché succederebbero io fu un coro un po' pesante sì farei fatica probabilmente però è anche la cosa bella da un certo punto di vista di prodigio è una delle cose che dico spesso il ci sono momenti in cui magari fisicamente non sono a posto io e una scarpa che è troppo permissiva troppo morbida poco stabile o che comunque dice stai tranquillo mi prendo io il controllo della tua corsa ti sistemo io ecco quella a me va a creare più danni che altro prodigio è un tipo di scarpa esattamente come lo era S-Lab ultra le prime che premia la corsa fatta in un certo modo quindi sei tu a lavorare assieme alla scarpa per correre quindi senti molto di più il movimento devi avere un movimento un pochettino più controllato di contro è hai meno rischio di magari andare a usare le gambe in maniera strana andare a cedere con le ginocchia fuori o all'interno cose di questo tipo quindi insomma c'è secondo me un uso un uso per tutto io poi mi dici faresti prodigio con la prima metà nella prima metà di loot e ma fate che nella seconda metà di loot e certo assolutamente nessun problema in questo modo per quanto mi riguarda sono magari compatibili però per il resto non credo sia qui dovremmo fare qui come in conversation il peso dovremmo fare il nostro meme con quello del wrestling esatto con Vince Maughn prodigio prodigio ma fate a loot solo ma fate a loot solo prodigio a loot e dopo dobbiamo trovarci l'ultimo però si sono due scarpe che secondo me non lavorano parallelamente ma possono lavorare assieme in due fasi differenti o con due tipi di allenamenti differenti o su due terreni differenti o su due distanze differenti sono due scarpe che non vanno messe in confine no assolutamente Daniele chiede oh questa è lunga facciamo quella dei cusci anche se qua è un discorso un po' particolare ti mettiamo in pausa ti abbiamo letto a Tommaso mi sono parlo ovviamente a questa persona stupendo male mi sono venuti in mente delle cose e ci teniamo questa cosa per una puntata dedicata cioè dedicata o pseudo dedicata perché forse ho trovato un ospite che potrebbe aiutarci ad approfondire questo discorso era una domanda su cusci sui cusci ci arriva poi tanto i temporali nelle gare arrivano a luglio quindi fino a luglio è una bella domanda articolata che meriterebbe uno spazio a parte anche con qualcuno che ci possa parlare di questo e forse ho trovato una persona arriva arriva abbia fiducia Marco chiede ciao ragazzi qualche notizia sulla nuova arrivata in casa Nike The Gama e Pegasus qua avrei voluto rispondere no no però dicevamo prima The Gama in uscita a metà metà maggio sembra molto ok molto ok Pegasus Pegasus sembra migliorata migliorano sempre un pezzettino un pezzettino Pegasus viene scherzando allo stack più alto di prodigio dobbiamo ancora capire come sia possibile sta cosa però però sono delle scarpe che devono ancora uscire purtroppo come tutto quello che è Nike in Italia i lanci sono abbastanza lenti e non arrivano con carichi di hype come succede oltreoceano i mercensori che stanno già testando dicono bene dicono belle cose ne parleremo più avanti appena si sa qualcosa in più Simone chiede ne avete già parlato però mi chiedevo quale fosse la scarpa migliore di Inafit penso aspetta che ho la colonna di Inafit per posti ultra non avevo la capo di questa colonna no allora ho selezionato tre prodotti con tre variabili allora per avere un buon compromesso protezione sensibilità e magari anche prezzo andare sull'ultra 50 scarpa che abbiamo prodotto sia io che te negli anni è una scarpa per mettere un buon buon controllo della situazione non è una scarpa da fare chissà che che distanza iper lunga quindi attenzione magari andare verso i 90 km la ultra 50 potrebbe essere un po' tanta però su un Chima la vedrai la vedrai bene se vuoi sbilanciarti su qualcosa di più aggressivo e sensibile alpine DNA2 l'abbiamo parlato anche prima più in ottica Chima che in ottica ultra da 90 km secondo me e altrimenti finalmente Dynafit ha fatto veramente un bel prodotto un po' più preciso per fare gare lunghe molto interessante è la ultra DNA2 ci fai un Chima sì magari non è quella scarpa leggera istintiva perché è una bella schiumona però ci fai qualsiasi gara alpina con cioè anche con impegno tecnico anzi sicuramente sei alpina hai impegno tecnico e hai un bel prodotto ultra DNA2 secondo me delle tre è quella migliore se invece preferisci avere più contatto a terra ma non vuoi sacrificare la protezione vai sulla ultra 50 è un prodotto un po' più cheap ha due o tre cose che negli anni non hanno mai voluto sistemare perché giustamente ci sono prodotti più performanti della linea Dynafit quindi aspettati un prodotto non perfetto però secondo me questo costa di durare 140 euro che è poco hai un ottimo prodotto e ci fai gare sicuramente di quelle ore in giro prodotto vecchio stile per gente che magari ha cominciato a correre da un po' di tempo e gli mancano i bei tempi di una volta hanno fatto un restyle l'anno scorso delle ultra 50 non l'ho più messa ai piedi l'ultima che ho messo i piedi era di due anni fa mi pare e la bianca e nera e la bianca e nera e spero non abbiano toccato la suola perché la ultra 50 montava quella suola pomoca di proprietà veramente veramente bella bella porosa spero non l'abbiano toccata perché invece la ultra dna 2 monta vibra vabbè mega grip light base anzi mega grip solo valido però insomma colori quello che è same old colori mettetemi una mano sul cuore perché i colori di dina fit purtroppo sono o dina fit quelli che sono avevo visto la lista delle domande mi stavo deprimendo perché io in realtà sto vedendo una lista non filtrata con anche le domande per back o two side eccetera e ho detto qui non finiremo mai più di registrare in realtà volevo tranquillizzare chi ci sta ascoltando mancano due domande è giusto due domande sì sì conferma ok visto che si comincia a parlare Leonardo chiede visto che si comincia a parlare di durate delle intersuole io mi sono accorto che risuolando la scarpa con Vibram light base la stessa intersuola fa esattamente 300 km in più come ci dimostra anche Normal che dichiaratamente punta sulla sostenibilità e durabilità del materiale le aziende continueranno a fare suole con intersuole esposta o si potrebbe tornare a fare suole completamente chiuse come una volta grazie mille complimenti saluti Leonardo quello che l'anno scorso avete beccato da Tuscani con le Timp risuolate quest'anno non le avrebbe risuolate le Timp credo sia stato contento del fatto che Altra gli abbia fatto le Timp Vibram sì se no sta correndo molto poco si è fatto solo 300 km in più con la risuolatura dell'anno scorso a quest'anno però Leonardo noi non giudichiamo siamo stati fermi per infortunio anche io e Ale comunque aspetta è una bella domanda però è una risposta anche qua molto ampia perché normal può permettersi di fare dimostrare questa durabilità delle scarpe ammesso che come abbiamo detto prima sia stata una trovata molto un gancio marketing interessante però dedicato a Killian e allora mi viene a dirti dai siamo in fascia non protetto adesso quindi si può dire siamo passate due ore due ore di distrazione tipo e grazie a cazzo siete la testa chi la scarpa no però sai con un'intersuola come questa expur di normal la durabilità è veramente uno dei cardini di questa intersuola ti posso dire è funzionale ti porto esempi di scarpe con heavy compress standard risulate vibran quella schiuma lì priva di quella capacità di quelli di quella capacità di emergere fuori sulla suola con degli spazi esposti la comprimi così tanto che va veramente a pressarsi in fretta quindi non è assolutamente detto che risuolare una scarpa aumenti la vita della scarpa è aumentata a te con la tua dinamica in quella precisa scarpa lì che non so quale sia se sia se possono le vecchie timp quindi conto che le vecchie timp hanno comunque una struma supercritica che quindi ha delle proprietà particolari quindi se la domanda è la domanda è come potrebbe tornare a fare il mercato potrebbe tornare su suole completamente chiuse come una volta dipende da cosa vuoi ottenere della scarpa vuoi una scarpa un po' più reattiva chiudi tutta la suola per creare più continuità ma devi anche renderla un po' più rigida se hai una scarpa molto morbida e chiudi tutta la suola vai ad arrestare la compressione della scarpa della schiuma ed è molto probabile che non ottieni un bel effetto per questo motivo una mafate ha tutti quegli spazi esposti per salvare peso e rendere più dinamica una zatterona e quindi non è che ci sia un meglio o un peggio però bisogna rendersi conto che non ho tutte le scarpe se le risuolo completamente ottengo automaticamente più usura e migliore performance della scarpa potrebbe cambiarmi completamente la sensazione della corsa magari uno si fa il callo e dice vabbè mi dovrà di chiudere la scarpa anche se è un po' più sorda anche se risponde un po' meno mi va bene qualcun altro probabilmente se vuole risuolare la scarpa non gli sta bene sta cosa quindi preferirà sempre magari la scarpa con un po' di schiume esposta io preferirò la scarpa con un po' di schiume esposta erano tempi più semplici una volta dove potevi risuolare delle scarpe da strada mettendogli del vibram e usarle su trail e non dovevi stare lì a guardare io ho risuolato ho risuolato due oca waka otto anni fa ormai sette anni fa cosa del genere ci ho fatto anche due miti di brenta era una oca stradale con la suola e ricordo che Marco Zanchi al tempo mi aveva lasciato volontariamente un pezzo di zeppa aperto per scaricare meglio il tallone perché mi diceva se te lo tappo si ma rieviti quel sasso incastrato però la scarpa non scarica come dovrebbe scaricare perché è pensata quella zeppa lì per scaricare in quel punto lì e se scarica riesce a darti anche un po' di pop in più un po' di reattività se la tappi completamente è più facile che vai a schiacciare la scarpa la scarpa più in fretta ma parodossalmente potrebbe durarti meno chiudiamo con una domanda in un certo modo che è la mia risposta correlata non so chi l'ha mandata forse nessuno l'ha mandata non c'è il nome ciao ragazzi può essere un problema utilizzare su strada scarpe con un drop 10 e su trail un drop 4 leggi tu la risposta la leggo io puoi leggere tu che parli inglese meglio di me adesso mi metti una pressione addosso totale la risposta di Tommaso è no the more you fuck around the more you gonna find out non so se avete presente il meme dove c'è uno con un grafico fuck around e find out però alla fine per quanto mi riguarda trail con drop 4 lo vedo quasi come una normalità se mi avesse detto un drop 3 a parte il fatto che non credo praticamente ci siano scarpe con quel drop trail ma magari potrebbe essere una cosa un po' complessa drop 10 su strada non è diverso da credo che Pegasus avesse un drop 9 sì o c'è passata abbastanza alto nel senso quindi si può fare tutto fai tutto e si può si può testare qualunque è ancora una questione di abitudine comunque anche per assurdo forse probabilmente la gente avrebbe molti più problemi a correre su strada con un drop 3 rispetto a correre su trail con un drop 4 per via probabilmente dei materiali usati dell'impatto al suolo eccetera eccetera della continuità di impatto sì esatto impatto sempre uguale esatto nel momento in cui corri su strada con un drop 10 hai sotto le scarpe qualsiasi cosa hai a protezione poi ovvio se uno poi corre male anche quello può creare può creare disastro però insomma direi facci sapere fai un follow up sì no io non penso non penso ci siano problemi nessun problema però io magari ecco di mio non considero mai una transizione così alta però allo stesso tempo mi viene a dire che probabilmente ti viene comodo il drop 10 su su asfalto perché rispetta di più la tua meccanica di corsa che però sul trail a meno che tu non stia correndo in Val d'Orcia su una strada bianca il dato meccanica di corsa sul trail sarà molto diverso e dopo si entra con il grande discorso del ok è una drop 4 ma quanto smusso quanto rocker c'è perché a volte un drop 4 con una barchetta enorme sotto riesce a schiacciare giù così tanto il tallone che potresti simulare un drop molto più alto è un drop mascherato ecco quindi sì problemi non dovresti averne ma sto facendo delle grosse airpods perché non sono più tratista stavo guardando le Terra Kyger penso sia la pronuncia o Kyger io ho sempre chiamate Kyger 9 hanno un 3 millimetri di drop ok Golden Gate ATR 4 millimetri calibre a 4 millimetri insomma abbastanza normale però vabbè ci farà sapere siamo siamo arrivati alla fine di questa puntata quante domande erano 21 uff 21 mamma mia abbiamo raccolto veramente per un sacco di mesi prossima puntata arriverà a dicembre o la prima volta che avremo un buco nella programmazione voi continuate a mandare domande prima o poi rispondiamo magari non fate domande del tipo questo sabato devo andare a correre la gara del paese cosa mi consigliate di indossare perché nel caso comunque vi potremmo rispondere potenzialmente anche dopo con 5 mesi di ritardo nel caso la cosa va bene per l'anno dopo direi che non ci sono più argomenti abbiamo abbiamo sviscerato e grazie di questa cavalcata assolutamente se avete follow up fate pure torneremo con qualcosa di specifico dedicato a materiali singoli forse ci sono un paio di review in corso di cui arriveranno i video in un prossimo futuro di cui non possiamo dire la data e per il resto direi che possiamo salutarci e alla prossima grazie Ale grazie a tutti che hanno mandato domande e speriamo di esservi stati utili e se non mi siano stati utili mandate altre domande più o meno ma forse un giorno avrete delle risposte utili vi auguriamo assolutamente ciao grazie a tutti saluto grazie a tutti grazie a tutti